Ciao ragazze, ciao a tutte, allora oggi faremo questi orecchini che io vorrei chiamare Cleo perché un po' i colori così mi ricordano un po' l'Egitto però va bene, tutto discutibilissimo voi sapete benissimo che queste cose me le invento anche, va bene comunque cosa serve per fare questi orecchini? Ah, li regalerò per il mio contest alla vincitrice anche questi, quindi oltre a un po' di perline, un po' di cose, andranno anche questi orecchini che non sono grandissimi, sono estivi, spero che piacciono a chi li vincerà allora cosa serve per fare ciò? Serve una perla da 8 mm, per ogni orecchino, una perla da 8, 6 swarovski bicono delle 11.0 di due colori, dei cipollotti da 3 mm, delle super duo, aspettate che ho fatto subito delle super duo, io ho scelto queste qui Picasso, perché appunto mi piacciono molto il verde magari, però qui c'è dell'azzurro, insomma, le trovo, le trovo, secondo me stavano bene insieme poi magari voi potete scegliere il colore che volete e sapete benissimo che per i colori non ci metto lingua perché io sono sempre monocolor o comunque non uso mai troppo coi colori però magari, e delle 8.0, quindi 8.0, 11.0 di due colori, super duo cipollotti, 12 cipollotti da 3 mm e 6 bicono e una goccia col foro trasversale, se non l'avete potete fare anche qui con le perline, tre perline, due perline, la goccia, scendere, salire, andare da una parte, comunque una goccia, una monachella, io sto usando queste, che sono placate argento. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo infilare l'ago nella nostra perla, ho le mani un po' bagnate, perché la lavate, per non ingere le perline. Ok, allora, faccio un giro, entro nella perla, con il filo rimanente in fondo, ne tengo un pochettino e me lo giro sul dito, per non perdere appunto la perla, così. Questo tutorial va benissimo anche per i principianti, e quindi se siete principianti, non vi spaventate dell'orecchino, come è fatto, perché potreste farlo benissimo anche voi, è una cosa molto facile. Quindi, infiliamo 6 perline sul lago, ed entriamo nella perla dal lato opposto, quindi il filo esce da qui, entriamo dall'altra parte. Ok, teniamo sempre il nostro filo fermo. Siamo usciti da qui, teniamo bene il filo tirato, inseriamo altri 6 cipollotti da 3 mm, e ci infiliamo dall'altra parte della perla, quindi andiamo a cingere tutta la perla di cipollottini. Ok, a questo punto, sono uscita da qui, entro di nuovo in queste perline qui, qui, due, tutte queste, e qui invece di entrare nella perla, entro nella perlina successiva, quindi congiungo proprio tutto il filo con le altre perle. Adesso sono in una situazione, ecco. All'inizio sembra un po' brigoso da fare, ma vedrete che... riuscirete benissimo. Ok, le infiliamo tutte praticamente e facciamo un giro di filo in tutte le perle. Scendo di nuovo qua sotto, dove ho il filo che fuoriesce, quello che ho tenuto fermo, esco dall'ultima qui, che è questa, tiro bene, e faccio un nodo. Quindi fermo il mio filo a quello interno. Due nodi, anche tre. Io sto usando il filo 1G, però potete usare il vostro filo da tessitura 0,16 e 0,18, non ve l'ho detto. Ok, qui vado a tagliare il mio filo e cosa faccio? A questo punto torno dentro di nuovo nella perla, esco dall'altra parte e faccio un altro giro di filo e faccio un altro giro di filo. Più ne fate di questi giri, quindi sto facendo il terzo giro, più sarà stabile il lavoro. quindi lo so che è noioso, però è da fare. Quindi con molta pazienza entro in tutte le perline. sono qui, torno su un'altra volta, e dentro dall'altra parte nelle altre perline, dove non sono ancora entrata la terza volta. non fatelo troppo, ma tre volte va bene. Poi vi spiego perché, perché dobbiamo rientrarci un'ultima volta. Quindi facciamo tutto il giro, adesso li spostiamo un attimo, facciamo tutto quanto il giro e andiamo a posizionarci in una perlina qualsiasi. tiriamo bene il filo e vedrete che le vostre perline, vedete che qui c'è il nostro filo di congiunzione, se mi sporgio un pochettino con l'accendino, facciamo una piccola pallina e andiamo qua. Quindi passiamo l'ultima e andiamo nella prima perlina del giro. Così l'abbiamo già contornata. Adesso cosa andiamo a fare? Mettiamo una perlina di un colore, primo colore, secondo colore, primo colore. Così. Ed entriamo nel foro della perlina dall'altra parte. e facciamo un piccolo piccolo da tre. Sarà largo, vedrete, però va bene. Da tre perline. Le sistemiamo un po'. E di nuovo. Perlina blu, 11.0, rossa, 11.0 di nuovo, blu, e entriamo nella perlina nel foro opposto. E tiriamo. Mettiamo a posto con le mani. Di nuovo. Blu, rosso, blu, lato opposto. Entriamo anche nella perlina successiva, così siamo già pronti per rifare questa operazione. Molto semplice. Blu, rosso, blu, torniamo nella perlina, e nella quella successiva. Facciamo così per tutto il giro, vi aspetto alla fine. Qui sistemiamo sempre con le mani. ecco qua. La sta inserendo l'ultima. Entro anche nella 11.0 blu successiva, prima del primo archetto, e nella perlina rossa, quella centrale. Se usate due colori, adesso sarà molto più facile beccare quale ha. A questo punto, tre perline rosse, entro nella rossa successiva. 3 perline rosse, entro nella successiva, 3 perline rosse, entro nella successiva. Faccio così per tutto il giro che aspetta alla fine. Eccomi qua. Sto entrando nell'ultima, quindi entro nell'ultima perlina rossa qui. e tiro. Si è formata questa. Che volendo, potrebbe essere l'inizio di un altro orecchino, oppure anche due insieme così, si può fare anche un altro orecchino. o anche piccolini, o anche piccolini, quelli piccolini, piccolini, con una perla, magari diverso. Ok, sono arrivata qui, entro, questo è il primo archetto, entro nelle due perle del primo archetto, nelle prime due. Ecco qua. No, ho sbagliato, sono uscita da qui, ti dicevo, ecco, qui, nelle prime due. Adesso subentrano entro in gioco le nostre super duo. Allora, una e due, le andiamo a provare sempre. Due super duo, entriamo nella perlina sporgente di queste tre che abbiamo inserito. Se non le vediamo, contiamo una, due, che sono ancora queste di questo primo arco e le prime due di quello del secondo. Quindi, vado a metterla qui e tiro. Altre due. Vedete? Qui inizia l'archettino e quindi è questa qui in mezzo. Lo faccio per sei volte. quindi, altre due. Vedete che comunque sporge un pochino, poi andiamo a controllare, però, un pochino più sporgente. Due. Vado qui. Ed eccola. E sono quattro volte. Questa è la quinta volta. E questa è la sesta volta. Vedete? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei gruppetti. A questo punto, anziché, una super due super duo, vado a mettere sempre in mezzo una, scusate che, ecco, una perlina blu, una 8.0, una perlina blu. e vado nell'archetto successivo. di nuovo, una perlina blu, una 8.0, e una perlina blu, 11.0, e vado nell'archetto successivo. di nuovo, di nuovo una blu, 8.0, 11.0, e vado nell'archetto successivo. blu, 8.0, 11.0, e vado nell'archetto successivo. poi blu, 8.0, blu, l'archetto successivo, e devo inserire 6. Erano 12, i nostri spazi, 6 li abbiamo occupati dalle super duo, e 6 li andiamo a occupare così. E vado nella perlina qua sotto, la terza, dell'archetto. a questo punto io, vedete, devo cambiare il filo, quindi, vado sotto, faccio il nodo così, tiro, risalgo 2-3 perline, vado sotto, faccio un'anellina, e tiro in mezzo, io faccio sempre così, perché, mi sono accorta che, a volte, i nodi si possono disfare, da soli, quindi, quindi, mi insegno anche come fare, a cambiare filo, mi posiziono sempre in un punto, dove si vedrà poco, e faccio un altro nodo, prendo il mio filo, e tiro, sempre in mezzo, dove non si vede, tiro bene, vado a tagliarlo, quindi avrò un nodo qui, un nodo qui, un nodo qui, e qui, siamo a posto, me lo cambio, torno, eccomi qua, allora, ho fatto un bel nodino, con sempre il mio bel accendino, al mio filo, a questo punto, faccio la stessa cosa, entro, qui sotto, e vado, dentro le pernine, qui faccio un nodo, non so se anche gli altri fanno così, io però mi trovo molto bene così, perché, almeno sono sicura, che il nodo rimane ancorato, perché ci sono i nodini di sicurezza, che non lo fanno più muovere, ecco, come questo, e torno nel punto di partenza, da dove ero arrivata, ero arrivata, a questa perlina qua, quindi vado qui, questo voi non lo dovrete fare, ma, almeno così, chi non lo sa, potrà sapere, come fare, quando un ago, il filo finisce, ok, e torno in questa perlina qua, che era quella, l'ultima inserita, ok, a questo punto, inserisco, 2, 11, 0, blu, ed entro, nella super duo, ecco qui, entrate in gioco, di nuovo voi, altre due super duo, entro nella super due successiva, e in quella immediatamente successiva ancora, quindi unisco i due gruppetti, di nuovo due, entro in questa, e anche nella seconda, di nuovo due, entro in questa, e anche nella seconda, di nuovo due, entro in questa, e anche nella seconda, tiro bene, di nuovo due, entro in questa, anche nella seconda, perché ecco, di nuovo due, entro qui, nell'ultima, e vado a, perché mi sposto un po' questi, che non servono più, vado a mettere, due perline blu, finali, e dentro, nella super duo, a rovescio, nel foro sotto, a questo punto, torno, nel super duo, di qua, metto, due, no, tre, tre perline blu, e salgo in questa, super duo, prendo altre perline blu, perché avevo preso poche, adesso sono troppe, ma va bene, aiuto, sono sommersa delle perline, ok, a questo punto, dobbiamo mettere, i nostri swarovski, c'è la lavoro per comodità, inserisco, una perlina rossa, uno swarovski, una perlina rossa, e porto tutto giù, sul filo, e sul filo che si è, chiaramente, ecco, così, torno nello swarovski, saltando la perlina rossa, prendo un'altra perlina rossa, e vado qua, nella super duo, e tiro, in modo che, lo swarovski, mi si posiziona, così, in mezzo, poi, metto, una perlina blu, e vado, nell'altra, su, per duo, tiro bene, di nuovo, perlina rossa, bicono, perlina rossa, porto giù, torno di nuovo nel bicono, prendo un'altra perlina rossa, e vado, nella super duo, successivo, e tiro, sistemo io, con le mani, quindi, sistemiamo per bene, se, vediamo che è lento, tiriamo noi, con le mani, perché potrebbe allentarsi, di nuovo, perlina blu, entro, nella super duo, successiva, ne ho messi due, metto anche il terzo, uguale, perlina rossa, bicono, perlina rossa, e faccio scendere, entro nel bicono, perlina rossa, perlina rossa, entro qua, e tiro bene, tiriamo bene, perché, si allentano, qui, dopo che ne ho inseriti tre, devo inserire la goccia, quindi, perlina rossa, goccia, e perlina rossa, e perlina rossa, e vado, nella super duo, successiva, e tiro, a questo punto, rifaccio, questa operazione, in queste tre, in queste tre sedi, e in mezzo, metterò, la mia perlina blu, ve lo fate, da sole, e ci vediamo dopo, ecco fatto, ho inserito l'ultimo, a questo punto, prendo tre, 11,0, e entro nella, super duo, che mi trovo sotto, tiro bene, salgo, nella super duo, nella perlina rossa, qui, in queste qua, perché devo andare a fare, il cappetto, e quindi, andiamo ad andare, su, in alto, siamo arrivati qua, infatti, salgo, 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 e vado, conto le, 8,0, 1,2,3, poi ci sono, questi due blu, quindi, arrivo, e prendo, la prima blu, qui, esco da qua, dopo la terza, c'è questa perlina, blu, qui, ne ho inserite, a 6, sì, vado a inserire, ah no, vado nella prima, e anche nella seconda, scusate, perlina blu, poi conto 6, 11,0, e vado, nella prima, e anche nella seconda, e faccio il mio cappietto, giro il lavoro, entro di nuovo, in tutte le perline, che ho appena inserito, e lo faccio questo giretto, due volte, quindi una, entro in tutte le perline, vado qua sotto, sempre nella blu, tiro, vado qua sopra, di nuovo, nelle altre, e faccio due giretti, di filo, entro nel lato qua, e a questo punto, vado a fermare il mio filo, lo vado a fermare, qui in mezzo, magari, io però, con la solita, asolina, io però, visto che sto usando un filo, insomma, che non è, sostenutissimo, dovrò andare a fare un giro qui, per queste perline qua, quindi io non lo stacco, e lo farò dopo da sola, per metterla a monachella, come sappiamo tutti, storgiamo un po', il dentino, di congiunzione, qua sopra, e la vado a ripiegare, dopodiché, provo a, schiacciare un po', schiacciare un po', queste sono poi, molto, ecco, schiaccio bene, in modo che non si tolga, più, questo è l'orecchino finito, questo è il secondo, adesso io, appunto, come ho detto, farò un altro giro, perché vedete, sono belli sostenuti, ma, perché al punto, li ho girati intorno, ancora una volta, ed ecco qua, i nostri rocchini, a me piacciono molto, sono molto estivi, come colori, mi piacciono, perché riprendono un po', i colori dei coralli del mare, e quindi, con l'estate, secondo me, sono, abbastanza, indicati, facendoli di altri colori, vedrete che cambierà, tutta la situazione, e se li fate, fatemi rivedere, perché sono sempre curiosa, di vedere, appunto, come cambiano le cose, cambiando, la perla, o, i colori delle super duo, e, e niente, se vi è piaciuto il video, un mi piace, se non vi è piaciuto, pazienza, faccio sempre del mio meglio, se mi avete visto in tv, cercate il mio canale, su YouTube, Cinzia Grandi Creazioni, su Facebook, sono presenti, la mia pagina creazioni, Cinzia Grandi Creazioni, e il mio gruppo Facebook, Cinzia Grandi Fans Club, Handmade, Gevrly Club, che mi hanno, aperto, delle mie amiche, anni fa, ormai, mi sa che sono già, due annetti, non mi ricordo, due anni, e quindi, niente, vi aspetto, se avete dubbi, o chiaramente, scrivete pure qui sotto, qualche commento, vi risponderò, e niente, questi orecchini, andranno comunque, alla vincitrice del contest, fatti con le mie manine, adesso vedrò, se appunto, aggiungerci qualcosa, qualcos'altro, sempre inerente a questo, per il momento è tutto, buon perlinamento a tutte, e alle prossime, ciao, ciao, ciao,